Secondo me è meglio stargli lontano, la situazione potrebbe rigenerare. Sì, è vero, ma dimmi come mai non so niente della letteratura del Novecento. Siamo i padroni del mondo! Nessuno ci può fermare! Puttane, puttane, puttane! Mmm, questo è più buono del solito! Vi devo parlare, aprite! È importantissimo! C'è qualcuno, vi prego! Oh, buongiorno! Grazie a terza B, vi presento la vostra nuova compagna, si chiama Valentina. Ciao a tutti! Ciao! No, aiuto! No, non mi picchiate, per favore, aiuto! Stare davanti al televisore, c'è sempre qualcosa di interessante. Willy, il coyote e Bip Bip! Stai bene? Non vi ha fatto niente! Tu fatti cattito, sono affari loro! Guardami! Guardami! Guardami ma non guardarmi! Allora? Sì! E dai! Sì, io ti amo! Giulia! Un tema di italiano! Dieci! Ups, hai preso cinque! Ora basta! C'è una faccia! Sì, sei strano! Altro che strano! Sembri schizzato! Schizzato! Sì! Che Antonino sia stato preso, che sia stato preso giustamente di mila da qualche suo compagno da un Ciao! Però mi dovete fare una promessa! E quale? Vi dovete insegnare a giocare a Minecraft! E questo video. Le dimenticato giornate! E la dimenticato giornate! Un fourth! Un fourth! Un fifth! Grazie a tutti